Ci sono voluti più di dieci giorni. Alla fine il corpo di Flavia Mello Agonigi è stato ritrovato a pochi chilometri dalla sua casa di Pontedera, dentro la cisterna della cantina di un'abitazione di Santermo nella provincia di Pisa. Era uscita con le amiche ma non è mai rientrata. È stato il marito a dare l'allarme. La polizia ha trovato il cadavere grazie alle immagini delle telecamere della zona, alle celle telefoniche e alle informazioni scovate nel computer della vittima. È stata uccisa la notte fra l'11 e il 12 ottobre a coltellate da un uomo di 34 anni, Emanuele Nannetti, che avrebbe fatto delle emissioni durante l'interrogatorio in questura. È infatti sua la cisterna dove è stata trovata Flavia Agonigi. Il movente non è ancora chiaro ma, stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'uomo quella notte avrebbe avuto un appuntamento con la 54enne. Si cerca ancora l'arma del delitto.